ragazzi questa è genova gennaio 2014 qui ascensore di castelletto vediamo un po lì c'è il museo chiossone qui sotto via garibaldi qui abbiamo un po ecco il teatro carlo felice grattacieli fascisti qui appunto centro storico tutte torri torrette chiese chiesette eccetera eccetera la sotto iniziamo a vedere il porto vedete ciofecone del bigo la lanterna il matitone e poi vabbè tutto un po le colline cosa c'è lassù ci sarà righi ci vanno tutte le coppiette